... Bisogna separare il gioco di incertainimento e abilità convincita di denaro limitata dalle macchine convincita d'azzardo come le videolotterie. Bisogna separare le videolotterie che sono d'azzardo, le slot da bar sono di incertainimento. Io credo che sia un appello da raccogliere perché credo che uno dei temi che stiamo discutendo, uno dei temi che sta suscitando molte polemiche, giustamente è la presenza eccessiva di giochi con vincite in denaro nei locali pubblici. Io credo che bisogna trovare delle forme per promuovere il ritorno del gioco da intrattenimento senza vincite in denaro. L'appello che proviene da GK è un appello coraggioso, come diceva lei appunto noi dobbiamo distinguere dal gioco di intrattenimento e il gioco d'azzardo e questo perché? Perché purtroppo la ludopatia è uno dei mali più subdoli e più gravi della nostra società. Bisogna separare, come dice la GK, il gioco patologico, quindi il gioco d'azzardo, dal gioco di intrattenimento. Sono due fenomeni completamente diversi. Uno, il giocatore è cosciente del fatto di giocare e quindi non cade in certe diatribe, mentre invece il giocatore patologico va aiutato e quindi il sistema sanitario nazionale lo dovrà prendere in carico.